Eccoci tornati, ancora un buon pomeriggio a voi cari telespettatori, buon lunedì, buon inizio settimana, buon inizio settimana anche a te Francesco, iniziamo questo lungo, detesto i convenevoli, sono una perdita di tempo, entriamo nel vivo, buon pomeriggio, non sono per rompere il ghiaccio con questo freddo, buon pomeriggio ai Frenesia che sono in studio con noi, buon pomeriggio ragazzi, possiamo dire i vostri nomi reali? Benissimo, benissimo, allora Flavia e Federico, Flavia e Federico, Federico e Flavia insomma sono loro, bene, fratello e sorella? Eh sì, eh sì, fratello e sorella, lui è più grande di cinque anni e niente, facciamo musica da troppo tempo, da sempre, cioè condividiamo questo da una vita. Io avevo cinque anni, mancheri nada, l'hai un po' anche acquisita da lui? No, tantissimo, io lo riconosco, però effettivamente sono sempre stata super affascinata da questo mondo, avevo lui che mi suonava in casa così col pianoforte e regalato alla nostra nonna a caso, perché nessuno è musicista poi in casa nostra. Però avevamo già una tastierina e là avevano capito che io strimpellavo. Canta tu, tutte queste cose e quindi sì, poi crescendo ci siamo ritrovati effettivamente a fare questo di lavoro adesso. Io però non riesco a capire la dinamica, cioè cinque anni, tu appena nata, lui strimpellava, tu ti sei appassionato alla musica, quando è che vi siete parlati, guardate negli occhi, proviamo a fare qualcosina insieme. Oppure non è proprio stato detto, avete iniziato e basta. No, non è stato detto, poi vabbè chiaramente quando abbiamo iniziato a scrivere le canzoni lì abbiamo capito che poteva esserci qualcosa anche insieme a livello proprio di progetto. Però è stata una, cioè nel 2018 effettivamente c'è stato quel momento di dire diventiamo un duo, cioè un progetto effettivamente, cioè pensato insomma una cosa seria, perché fino a quel momento comunque abbiamo sempre buonato insieme, siamo andati in giro, facciamo serate per locali, festival, cose, però ovviamente era tutto un po' così, naturale, c'era venuto proprio spontaneo nel corso degli anni. E poi effettivamente sì, verso il 2018 è l'anno diciamo di nascita del duo, ecco. Allora, Flavia e Federico Marra, siete i Frenesia, spiegateci perché Frenesia, è molto bello come nome. Grazie. Allora, perché in pratica eravamo, lo diciamo, lo diciamo, certo, avevamo un altro nome, anteprima esclusiva. Lo diciamo. Poi l'abbiamo spiegato molto, cioè diciamo anche sui social diciamo l'abbiamo spiegato questo cambio nome molto, cioè molto importante per noi perché abbiamo un po' ripercorso tutte le tappe, proprio quelle di cui parlavamo ora della nostra vita e della nostra carriera poi e quindi abbiamo però deciso di cambiare nome perché effettivamente volevamo unirci sotto un'unica parola che ci identificasse e la Frenesia è un po' diciamo una parola chiave per noi, oltre ad essere ormai diventato un po' un tratto riconoscibile proprio della nostra musica. Sì, tantissimo, perché ci piace spaziare tra generi, insomma, sperimentare molto così e poi è proprio il motore della nostra creatività, è un sentimento che ti brucia dentro, no? Un qualcosa che ti spinge sempre ad andare avanti e a noi a voler vivere poi di questo, quindi era la parola perfetta. Punto fondamentale a noi vivere di questo, poter vivere di questo, riuscire a campare con la musica, che è una cosa molto difficile, ma non solo per la musica, io credo proprio l'arte in generale, no? Chi vuole fare recitazione, chi fa il teatro, chi recita, chi vuole fare anche il nostro mestiere, insomma, noi siamo molto fortunati, però altri ragazzi non lo sono. Si incappa in un po' di difficoltà, giusto ragazzi? Non c'è anche la paura di dire, noi andiamo avanti e poi? Se tutto questo castello dovesse cadere? Allora, io comunque sia faccio anche altri lavori, diciamo, sempre in ambito musicale, che sono comunque lavorato al conservatorio, sto cercando, cioè mi sono proprio dato come obiettivo di lavorare per qualsiasi cosa sempre nell'ambito musicale. E questo è fondamentale, e questo è importantissimo. Tu anche comunque stai facendo Dams, quindi... Sì, mi sto lavorando al Dams, in musica, teatro, danza, qui a Roma 3, però nel senso comunque se non, cioè, forse all'inizio magari già un limite di dire, ah se poi, cioè nel senso non ha molto... Infatti neanche c'è il tempo per te, esatto, quindi uno... Però adesso io non ci penso neanche al piano B, sinceramente. Sì, l'importante è che noi stiamo comunque lavorando con tanti sacrifici, stiamo lavorando sodo da anni, poi ovviamente stiamo crescendo, ci stiamo definendo sempre di più proprio come artisti, come persone, quindi sappiamo bene in che direzione vogliamo andare, speriamo ovviamente che col tempo riusciamo sempre a prendere più pubblico, perché poi quella è la cosa principale. Persone che quindi si identificano nella nostra musica, che ci ballano su, che ci piangono su, che gli piaccia questo, e quello è l'importante. Noi infatti amiamo suonare live in giro, così. Adesso appunto stiamo facendo uscire nuova musica con un concept molto lavorato nell'ultimo anno, e quindi siamo contenti così. Poi ogni cosa fa paura, io penso che tanto ormai, per noi giovani, penso che ogni settore è diventato difficile, quindi tanto male. Anche soltanto volete diventare un avvocato, perché ormai la piazza, insomma, del lavoro è stracolma di questo tipo di mestieri. Ci sono pochi spazi, purtroppo nuovi, quindi è un po' questo ricambio generazionale che sta faticando tantissimo, però noi ci dobbiamo credere. La solita cosa, vai a medicina. Sì, sì, basta. Oddio, se hai la passione è ovvio, benvenga, perché ce ne vogliono anche di medici, avvocati, con passione, se no. La passione muove un po' tutto, ragazzi. La passione, sì, sì, è quel fuoco che dicevamo prima, alla radice di ogni cosa, poi. Si scrive? Perché due insieme vi mettete lì e... Sì, sì, oppure, vabbè, che ne so, può partire un'idea da uno e la fa sentire all'altro, viceversa, e... Ovviamente però i pezzi sono comunque scritti da noi. I pezzi comunque sono scritti poi insieme, sì, sì. Insieme, e dipende appunto, dipende dalla canzone, dipende dal momento. Ovviamente è bello scrivere in due, perché c'è comunque uno scambio e poi uno scambio in casa, tra l'altro, quindi è molto semplice per noi, comodissimo. E le discussioni, c'è che poi nascono, eh, due, voglia e ci sono. Ce ne sono tante, comunque anche perché siamo molto simili, ma anche molto diversi su tante cose, nel senso che comunque siamo estremamente compatibili, essendo fratelli, quindi a livello di gusti, eccetera. Però poi ci sta che un'idea, cioè, io gli faccio sentire una cosa, una frase, e lui mi dice, no, ma che è, ci suona male, non mi piace, così, e io gli dici, rimango male perché è una cosa, magari, no? E viceversa. Però poi effettivamente ci rifletti un attimo su, ci lavori, tante volte c'è successo così. E poi può nascere una cosa migliore dallo sconto. E ovviamente sì, siamo effettivamente più, cioè siamo contenti che riusciamo a confrontarci così tanto, è fondamentale. Eh sì, ci vuole sicuramente, ci vuole sicuramente del dialogo. Ragazzi, a primo acchitto, fate una bellissima figura, cioè ve lo devo dire proprio con tutto il cuore. Anche il vostro stile è molto curato, nei particolari. Grazie. Allora, dal vostro stile, no? Anche perché poi uno come si veste, diciamo, da questo traspare anche un po' il messaggio dal punto di vista musicale che vuole dare. Ecco, voi che messaggio musicale volete dare? Io ho sentito il soundcheck. Va bene, ho sentito quello che... Non ti scusate. Io non mi sarei aspettato... Quel tipo di musica? No. E poi vabbè, fatto con la chitarra a cussi così, neanche rende molto... Questo è un po' poi la... Cioè, ora vabbè, c'è la chitarra, però a casa sono nate con piano e voce queste canzoni. E' ancora diverso, no? Sono estremamente elettroniche così, però effettivamente sono nate così, quindi c'è tanto lavoro, no? Poi sopra è anche... è bello però farle sentire anche poi a quello stato primordiale, no? Ecco, come nascono piano e voce? Poi come si trasformano nelle lettere? E poi si trasformano in studio, con il producer, tanta pazienza e... Abbiamo lavorato con Alessandro Donatei, che è insomma un producer qui di Roma, bravissimo, con cui ci siamo proprio trovati super bene, sempre riguardo l'argomento poi del confronto. Altro musicista, anche lui, da paura. Sì, e quindi comunque grazie a un'altra testa e altre due mani che si sono aggiunte, ovviamente siamo riusciti a dare poi questa chiave che noi amiamo, abbiamo sperimentato tantissimo in queste nuove canzoni, quindi siamo stracontenti. Allora ragazzi, lo scorso 19 maggio siete uscite con le prime tre tracce del vostro EP, giusto? Eh sì, sì, finalmente. Rumore bianco, vediamo se sono abbastanza preparata, ho studiato, no? Le ascoltate molto bene, io appena sono arrivati ho sentito canticchiare il motivetto di cos'era? Fulmini. Di fulmini? Allora, rumore bianco, fulmini e l'intro. E c'è un intro che si chiama appunto Frenesia. Entro Frenesia, che è proprio un'introduzione in questo modo. Allora, diciamo che è un progetto, in realtà non è completato, perché ci sarà la seconda parte di questo che è il nostro primo EP poi, uscirà nel mese di giugno, ancora non diciamo la data perché stiamo per comunicarla comunque. e c'è insomma dietro il lavoro effettivamente di quest'ultimo anno in cui ci siamo fermati con le pubblicazioni, però ci siamo impegnati tanto appunto a scrivere, a osservare, a osservarci tanto anche noi. E il rumore bianco deriva un po' proprio dalla nostra visione del mondo che ci circonda effettivamente, perché il rumore bianco è questo suono che sembra un'amplificazione del silenzio. Sì, è un sono rilassante, per rilassarsi, per calmarsi. Anche quello del sonno. Esatto, è anche quello, il rumore delle onde anche. Però ho visto gente che... Sì, sì, è vero, è vero. C'è chi si addormenta con rumore. Sia perché fa il caldo, sia perché il rumore. Questo silenzio che ci ricorda comunque il posto dove viviamo. Sì, ricorda un po' la zona in cui siamo nati, in cui viviamo, perché noi abitiamo nella periferia di Roma che è molto rurale, ecco, è piena di pura campagna e poi ha un passo dalla città in realtà, però c'è un silenzio che effettivamente può anche angosciare un po' per chi non è magari abituato, perché è abituato al caos della città, a questa frenesia effettivamente, no, di tutti i giorni, è un silenzio che magari spaventa, però noi ci siamo davvero cresciuti, l'abbiamo imparato ad apprezzare e accogliere effettivamente quella possibilità di riflessione che può nascere in quella calma quando torni a casa e sei lì immerso nella natura, nel silenzio, nella tua pace e lì ovviamente è anche dove è nata la nostra musica. E poi effettivamente in questo EP, che poi l'EPR c'è una grande differenza rispetto a un disco, ci hanno spiegato qualche tempo fa, perché è un mini disco, è un mini disco fondamentalmente. Eh sì, è un progetto un po' più ristretto, però sì, comunque appunto... Ma è sempre un preludio, scusami se ti interrompo, cioè... No, in realtà no, questo no, si fermerà così. Si fermerà con la seconda parte che completerà queste prime tre tracce e saranno altre tre tracce. Quindi sei tracce. Sì, sei tracce così e ovviamente sì, un disco è un progetto magari un po' più ampio, un dieci tracce almeno, insomma, però diciamo per noi era un primo, era un inizio questo. Mi spiegate l'intro, perché è una cosa che io vedo in pochissimi EP, in pochissimi dischi. Ed è anche molto particolare, tra l'altro. Esatto, perché alcuni è parlato, esclusivamente parlato, in altri è esclusivamente suonato, in altri invece è una canzone che si intitola proprio intro. Il vostro com'è? Il nostro chiamava appunto intro-prenesia. Il nostro intro-prenesia appunto sì, che doveva un po' rappresentare, cioè spiegare un po' il concept sia del nostro nuovo nome che appunto abbiamo spiegato anche prima e sia di questo rumore bianco ed è molto frenetico sia la musica che anche le metriche della melodia comunque ti dà quel… cioè rispecchia perfettamente il significato, cioè volevamo proprio in tutti, rappresentare in tutti i modi. E tra l'altro si collega poi esattamente con l'amore bianco, sì. Quindi col primo brano ed è collegato anche… Collegato proprio… Collegato proprio. Che è una cosa molto vintage, che non si fa quasi più, è una cosa meravigliosa, una cosa meravigliosa. Abbiamo lavorato tanto infatti su queste cose, è tutto collegato, ci sono tutti intrecci riferimenti. Quindi è cantato l'intro? Sì, sì, è cantato, sì, sì. Curiosissimo. Allora, io vengo da te Federico, ho visto che il vostro brano, oppure anche i vostri brani, sono usciti di venerdì. Io vedo sempre che praticamente tutti fanno uscire proprio i brani di venerdì, ma perché c'è una cosa scaramantica? Da cosa dipende? Allora, ho smesso di chiedermelo, però in realtà sì, effettivamente… Ormai è un diktat. È una cosa, sì, proprio di abitudine, penso di… Dovresti chiedere alla distribuzione. Eh, alla distribuzione, sì. Però no, effettivamente si esce di venerdì un po' per, probabilmente per l'aggiornamento delle playlist, eccetera, questione di aggiornamento proprio, perché Spotify aggiorna sempre il venerdì tutto, quindi visto che, insomma, è una delle piattaforme, insomma, penso… Anche per scoprire dei nuovi talenti, perché si aprono in rotazione quelle playlist e quindi la inizi a scoprire cosa… Sì, sì, quindi di base si esce il venerdì. Poi il venerdì, effettivamente, cioè secondo me è anche un giorno in cui la gente ha più tempo e voglia… Sì, inizia il weekend. Si può ascoltare… C'è tempo di ascoltare musica, finalmente. Sì, sei da lavoro con le cuffiette nelle orecchie. Magari fai un viaggio, un qualcosa, no? È più semplice. Bene, ragazzi miei, che facciamo? Eh, noi direi… Ne abbiamo parlato così tanto, direi che è il caso di andare ad ascoltare Rumore Bianco. Qui, però, non è come avevamo detto in precedenza, nel senso che la canzone è meravigliosa, abbiamo sentito questo… È stupenda, infatti noi stavamo ancora… Na, 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 na… Questo sound elettronico. Sì, sì. Però credetemi che tra poco ci sarà qualcosa di acustico che a me personalmente fa impassire, perché lo ripetiamo di primo acchitto, vedi, frenesia, così, dici… Mmm, non me l'aspetto mai una cosa del genere in acustico. Proprio com'è nata la canzone. Poi parlando, no, è proprio quello, è la genesi del progetto, perché nasce addirittura piano e voce, quindi figuriamoci. Complimenti, ragazzi miei, complimenti. E ora devi sentirla in acustico. E vuole sentirla in acustico tra poco. Il videoclip, ho visto che anche tanti colleghi vostri ultimamente non fanno più i videoclip, perché dicono che costa un sacco di soldi, non ci porta nulla, dipende cosa voglio comunicare, a me basta comunicare con la musica. Beh, ragazzi, facciamo morire pure il videoclip, è finito, cioè non ci abbiamo più certezze. No, ma infatti noi abbiamo lavorato tantissimo sull'immaginario a 360 gradi che volevamo comunicare, quindi abbiamo comunque realizzato questo video, abbiamo realizzato tanti visual, diciamo, per ogni canzone dell'EP, e ognuno appunto con degli elementi che identificassero comunque il pezzo, e quindi abbiamo, cioè ci piace proprio lavorare a 360 gradi sullo stile, sul video, foto, oltre che, cioè la musica comunque deve stare accompagnata da qualcos'altro, le grafiche, quindi... Vabbè, era comunque la main track dell'EP, ci stava a fare... Sì, 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 questo era il video, diciamo, il video ufficiale, ci stava. Allora... Allora... Che cosa voglia... Io poi c'ho la domanda delle domande, signori miei. E qual è la domanda delle domande? Facciamo dopo. Io direi di lasciare prima spazio a loro, perché noi abbiamo ascoltato prima un piccolo soundcheck, e c'eravamo io e Francesco così stupiti, stavamo ascoltando... Ammazza! Capito, l'amalgamarsi delle voci... Beh, ragazzi, allora, da quale volete partire? Ascolteremo due pizzettini, no? Di due canzoni diverse. Sì, sì, allora iniziamo col rumore bianco. Sì, adesso, appunto, facciamo un rumore bianco. Quindi ascoltiamo in acustico. E poi facciamo fulmini, che è l'altra traccia intera. Cioè facciamo una chiacchierata, poi facciamo fulmini. Ascoltate il rumore bianco. Io farei una cosa. Vai. Io farei. Numero di telefono che parte adesso sul passato. Assolutamente. Allora, vediamo. 3, 4, 2, 6, 5, 6, 6, 6, 2, 7, 5, 7, 1, 6. Ogni volta è così, non ci possiamo fare. È quasi un giochino, no? Benissimo, scriveteci se la preferite in acustico oppure... Facciamo il sondaggio. È bella comunque, è bella comunque. Però in acustico... Ragazzi, poi sono gusti, no? Ognuno c'è i suoi. Sì, è un po' a retro, Francesco. L'importante è che piaccia. Eh, una voglia. Ragazzi, facciamo tutta a sto punto, diremmo. È meraviglioso. Prima di andare via, un altro secondo la rifacciamo. Anzi, oppure quando dietro le quinte ci fermiamo, ci vado un altro piccolo. Chiediamo il tris, non il bis, perché veramente, ragazzi, siete una bomba. E io ero quello vintage. Ma è malacustico da quella cosa. Sì, va bene. Siamo da... I live. Parliamo dei live, che non è la domanda delle domande. Perché ascoltarla qui, live, che ce l'abbiamo davanti, è fatto tutto un altro effetto. Quindi, dove possono venirvi a trovare, a salutare, a conoscere, a vedere, a sentire? Ok, sì. Intanto il 3 giugno c'è un evento molto importante, diciamo, a Marina di Camerota. Meeting del Mare. Meeting del Mare, apertura a Jolière. Una cosetta. Così, a uno così, tanto bene. E poi torniamo qui a Roma. Sì, a Roma, diciamo, all'Eur. La Notte Bianca, il 17 giugno. E poi sempre all'Eur. E il 22 giugno, Eur Social Park. E poi, siamo in aggiornamento, ci sono già altre cose che comunicheremo presso sui social, quindi ancora non sono, diciamo, ufficiali. Però, ecco ragazzi, qua vi voglio, quanto sono importanti i social per gli artisti emergenti? Ad esempio, vediamo tantissimi ragazzi che sbarcano su TikTok e le loro canzoni diventano virali nel giro di qualche secondo. Sì, diciamo, ci sono diversi aspetti. Noi lo usiamo principalmente per comunicare effettivamente, cioè Instagram, diciamo, no? Magari i principali social così che sono più per comunicare ufficialmente, no? Delle notizie, uscite, live, appunto, queste cose qua. Anche qualcosa della vita di tutti i giorni. Sì, ovviamente, condividere comunque momenti più intimi. TikTok, noi ci siamo sbarcati da poco, non siamo proprio ancora schillatissimi. Capisco benissimo. Quindi, però sì, quello è un utilizzo un po' diverso, ovviamente è anche un modo sempre per... Poi l'importante è poi la finalità, no? Se comunque si riesce a far girare la propria musica, quello è l'importante. Comunque è sempre una cosa positiva. Però, insomma, dipende poi dalla persona, anche dall'artista, come si sente più a suo agio nel comunicare, no? E i talent? Questa è la domanda. E i talent? Stessa cosa, poi, no? E' sempre l'utilizzo che se ne fa. E' sempre, sì, un altro mezzo per far girare il più possibile. Ah, dai miei giudizie, ragazzi. No, sono grandi mesi, no, promosse o brutto o bocciate. Sì, sì, però dipende quale, innanzitutto. Dipende come. Dipende come ci vai. Poi, se hai appunto un progetto tuo, canzoni due, ti fai sentire così come sei, effettivamente è una grandissima vetrina. Non possiamo regarlo. È importante non farsi cambiare. Perché questa volta, diciamo, che succede. Io direi di fare un piccolo, 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 piccolo passetto indietro. Perché, Francesco, devi sapere che questi ragazzi hanno partecipato a Sanremo Giovani. Sì, sì, sì. Un'altra vita. Infatti parlavamo prima, no, del 2018, come inizio effettivamente del duo. E' stato quello l'inizio, poi. Un bel battesimo di fuoco. Sì, un inizio così da poco. Però è vero, siamo stati catapultati lì a Sanremo, tramite Area Sanremo. Abbiamo vinto, insomma, quel concorso tramite tante tappe che abbiamo fatto durante tutta l'estate. Ci siamo ritrovati di fronte alla Commissione Rai con Baglioni. Era l'anno, insomma, che poi vinse Mahmood. E poi siamo stati presi anche dalla Commissione Rai, effettivamente ci siamo ritrovati sul Rai 1. Sì, dalla finale proprio di Sanremo Giovani. Dai, bello, bello, bello. Perché no? No, in un futuro, magari. Certo, certo. Ora che, insomma, c'è un nuovo progetto, assolutamente. Quasi come esserci stati, no? Averlo scritto comunque lì. È mica poco. E averlo vissuto non è un ricordo da poco, posso dire. Allora, ragazzi, noi tra poco ci dobbiamo lasciare, quindi chiudiamo in bellezza e direi con fulmini. Allora, facciamo così. Io direi di salutarli. Assolutamente. Quindi noi vi ringraziamo e vi salutiamo. Grazie a voi. Grazie, ragazzi. Mi raccomando, sono su Instagram, quindi cercateli. Prenesia. Prenesia. Li seguite, tutte le informazioni. E per le prossime uscite, ovviamente gli studi pomeriggio con noi, sono aperti a voce. Grazie. Quindi tra poco la pubblicità, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con la vostra musica. Va bene, fulmini. Grazie, ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.